I consigli per difendersi dal grande caldo li sanno a memoria. I 250 ultraottantenni che vivono al portello, coinvolti nel progetto Viva gli Anziani, d'estate hanno precise esigenze. Ci chiedono compagnia, ci sono delle emergenze a cui rispondere nel breve, ma hanno anche difficoltà le volte a procedere a delle richieste di servizi che già sono presenti nella città e non sanno come fare. Agli over 80 del quartiere il programma offre contatti telefonici quotidiani, schiera alcune decine di volontari e volontarie per rispondere a qualsiasi loro esigenza in una città dove i servizi sociali e sanitari non mancano. Le volte le persone sole non sanno come usufruirne, cioè non arrivano a raggiungerli. E quindi il programma in questo caso vuole essere un facilitatore. E da qui anche l'aiuto ad avviare ad esempio le pratiche burocratiche. Dietro la Chiesa dell'Immacolata, il giovedì, sabato e domenica, ci sono momenti di incontro con lo slogan Sole sì, soli no. In giro per il Rione si svolgono le serate Gelato sotto le stelle. Il programma è realizzato da Sant'Egidio, comune di Padova, e l'Onlus è nel cuore. Si cercano volontari per espandere il servizio in altri quartieri. L'aiuto di tutti è fondamentale, direi anche solo un'ora di tempo salva un anziano.